La piccola Busetto Palizzolo ha ospitato il concorso nazionale di esecuzione musicale Salvatore Capizzi e Antonino Maiorano, organizzato dall'Associazione Musicale Giacomo Candela con il patrocinio della Regione e del Comune. L'evento è nato in memoria di Salvatore Capizzi e Antonino Maiorana, musicisti busetani prematuramente scomparsi. La quinta edizione del concorso ha segnato l'attesa ripartenza della rassegna dopo i due anni di stop per pandemia e confermato la crescita della manifestazione. La partecipazione è infatti raddoppiata rispetto all'edizione del 2019 con il numero di concorrenti che ha toccato quasi 200 musicisti. Si è registrata in particolare una significativa adesione da parte delle scuole medie a indirizzo musicale della provincia di Trapani, ben otto gli istituti presenti. La giuria dell'edizione 2022 del concorso era formata da musicisti di chiara fama come il maestro John Galea, compositore, musicologo e direttore d'orchestra arrivato da Malta per svolgere il ruolo di presidente, Franco Foderà, pianista e già insegnante al Conservatorio Scontrino di Trapani e Gaetano Colaiani, direttore d'orchestra ai quali per la sezione chitarra si è aggiunto il professore Baldo Calabusa. Il concorso ha previsto, oltre alla premio speciale Salvatore Capizzi e Antonino Maiorana, un vincitore per ogni sezione e un premio speciale per il miglior trombonista e ufonista. Hanno vinto la quinta edizione Chiara Sernesi al flauto, il trio composto da Chiara Sernesi, Simona Odde e Greta Culcasi, il quartetto di saxofoni formato da Clara Galvano, Tommaso Eppolito, Rita Bianco e Vincenzo Faraone e il duo Giorgia Grutta e Giuseppe Mazzara, saxofono soprano e fisarmonica. Il premio speciale Capizzi-Maiorana, quello più ambito, offerto dal comune di Busetto Parizzola e consegnato dal sindaco Roberto Maiorana, è stato assegnato ai giovani fratelli violinisti Manuel e Gianni Burriesci di Paceco, premiati anche per la sezione archi, mentre Ruben Del Picchia ha vinto il riconoscimento per il miglior trombonista e ufonista. Infine il premio speciale Salvatore Larocco, offerto dal Rotary Club Trapanierice, è stato assegnato al sestetto dell'istituto comprensivo Pagoto della cittadina ricina. I musicisti premiati si sono esibiti all'auditorium Manzoni di Busetto Parizzolo. I musicisti premiati si sono esibiti all'istituto,